Ben trovati per questo appuntamento che è l'occasione di presentare questo libro Donne e Ministeri nella Chiesa Sinodale, ma appunto anche per far sì che il sottotitolo Un Dialogo Aperto diventi realtà. Non solo un libro, ma appunto l'occasione per parlarne con due delle autrici qui presenti in questo bel Salone Sinodale, o Salone dei Vescovi, dell'Episcopio di Verona, e appunto anche con il Vescovo di Verona, Domenico Pompili. A parlarne appunto perché c'è la loro mano, i loro pensieri, le loro parole, Sor Linda Poker, che è un po' anche la fautrice di tutto questo processo, e Giuliva di Berardino. Sor Linda, suora delle figlie di Maria Ausiliatrice, per capirsi Salesiana, ecco, anche se non so se fa piacere la Salesiana perché sembra, ecco, e docente di Cristologia, Mariologia e anche donna che spesso spezza la sua parola in esercizi spirituali, in altre occasioni di ritiro, di formazione. E appunto al suo fianco Giuliva di Berardino, dell'Ordo Virginum della Diocesi di Verona, anche lei con dottorato in liturgia, docente, anche con i più piccoli e i più grandi, appassionata anche di ballo, danza biblica, non ballo, danza biblica, anche lei è spesso chiamata a guidare esercizi spirituali, ritiri e quant'altro. Il Vescovo Domenico non serve che lo presentiamo più di tanto, per cui ce l'abbiamo qui. Dicevo prima, sono partito proprio dal titolo di questo incontro, di questo libro, per presentare anche l'incontro e credo che il titolo del libro dica già molto o tutto. Donne e Ministeri, allora, donne, abbiamo capito, insomma, stiamo cercando di entrare anche in questo orizzonte. Ministeri, al plurale, e non solo, poi capiremo che cosa intendiamo, ecco, perché i ministeri sono tanti, ne abbiamo già tanti e c'è una porta aperta anche su altro, nella Chiesa Sinodale, appunto, in un'epoca, in un periodo, in una cultura anche della Chiesa che vuole essere e riscoprirsi sempre più sinodale, una Chiesa con uno stile sinodale dentro cui anche leggere donne e ministeri. E, come dicevo prima, il sottotitolo Un dialogo aperto, proprio perché quello, ogni volta credo che si scrive un libro come questi, non è l'idea di avere le ricette, le soluzioni, o voler dire si deve far così, ma, in qualche maniera, provocare anche un dialogo, aprire un dialogo. Allora, Sor Linda, partirei proprio da te, chiedendoti un po' di spiegarci l'origine di questo libro, ma, ancora di più, l'origine, anche con un po' di curiosità, magari, come è nato anche tutto questo processo di dialogo del Papa con alcuni cardinali, appunto, su quella che possiamo definire la questione femminile o come la possiamo chiamare. Anche su questo, come la possiamo chiamare? Le domande sono tante. Prima di tutto, grazie per questa possibilità. Questa sera sono molto felice di essere qui e poter condividere con voi qualcosa di quello del processo che abbiamo vissuto nell'anno passato insieme al Papa e al suo Consiglio di Cardinali. Qui c'è qualcuno che ha l'esperienza che, quando si vive a Roma, possono capitare tante cose strane. E la cosa strana che mi è capitata vivendo a Roma è stata nel 2022. Il Papa voleva qualcuno che spiegasse ai cardinali del suo Consiglio che cos'è il Principio Mariano della Chiesa di Balthasar. Io avevo studiato molto questo tema per il mio dottorato e per una serie di congiunzioni astrali sono stata chiamata a fare questo piccolo servizio. Era il 22 febbraio del 2022 e ho dato questa conferenza di un'ora al Papa e ai nove cardinali del suo Consiglio alla Casa Santa Marta. Pensavo e forse anche speravo che fosse finito così perché, vabbè, certe cose anche una volta nella vita sono sufficienti. Invece, evidentemente, il Papa era rimasto soddisfatto. Io avevo presentato il pensiero di Balthasar e anche alcune critiche che io ritenevo importante fare in quella circostanza. Nel mese di giugno scorso sono stata contattata di nuovo dal segretario del Consiglio di Cardinali con la richiesta di pensare non una conferenza ma un ciclo di conferenze sul tema delle donne nella Chiesa per il Papa e il Consiglio di Cardinali. Ovviamente, non dico una cosa nuova, un grande tema di tutto il processo sinodale è proprio questo tema e il Papa voleva, tra le due sessioni del sinodo, avere degli approfondimenti. Mi è stata data libertà assoluta di organizzare questo percorso come volevo, a partire dal tempo, quanto tempo, quanti incontri, come sviluppare i temi, le persone da invitare. Io ci ho pensato un po' su, non avevo tantissimo tempo per prepararlo in realtà perché me l'hanno chiesto a giugno e a dicembre abbiamo fatto il primo incontro e la scelta poi è stata di avere degli incontri di una mattinata, quindi sempre dalle 9 alle 13, di avere sempre più voci e non necessariamente che dicono la stessa cosa, anche con un po', con una possibilità, insomma, di avere prospettive diverse, di rispettare la complessità del tema, di non semplificare e quindi abbiamo cercato anche contributo di discipline diverse, di prospettive diverse. Io avrei voluto anche che il gruppo fosse più internazionale, però non ci sono riuscita, ma comunque sono molto soddisfatta di tutte le persone che ho invitato e l'esperienza è stata molto bella, molto positiva. E poi abbiamo sempre lasciato anche lo spazio ai cardinali e al Papa di interagire, quindi le conferenze erano piuttosto brevi, erano interventi di mezz'ora e poi c'era lo spazio del dialogo e del confronto. In questo volume, di ogni volume è stato pubblicato, di ogni incontro è stato pubblicato un volume, sono quattro volumi e qui poi li trovate tutti e quattro, se siete curiosi. Il primo è stato già presentato da Lucia Vantini alcuni mesi fa e qui siamo al secondo. Nel secondo volume siamo riusciti a inserire anche due risposte dei cardinali presenti al Consiglio, quello che loro hanno pensato dopo aver ascoltato le nostre conferenze. Ci siamo riusciti solo con questo volume, con gli altri non ci siamo riusciti, perché i tempi erano anche molto stretti per le pubblicazioni e non ce l'abbiamo fatta. Però io sono contenta che proprio in questo volume ci siano, perché è il volume che affronta il tema più controverso, che è quello della ministerialità, e quindi restituire un po' questo fatto che gli incontri erano veramente un dialogo, non è che noi siamo andati lì e abbiamo detto la nostra cosa e siamo andati via, ma che c'era uno spazio, anche dialettico, insomma, perché non è che questa gente ha cambiato idea e adesso pensa a quello che pensiamo noi, però abbiamo avuto la possibilità di esprimere dei pareri anche diversi e di portare forse dentro questo ambiente alcune posizioni, alcuni pensieri che forse prima avevano faticato a varcare quella soglia. E io credo che questo sia una dimensione della sinodalità che è fondamentale, cioè che veramente si possa dire con libertà quello che si pensa. Non è tutto, però è un buon punto di partenza. L'ultima cosa, poi lascio la parola, perché abbiamo voluto le pubblicazioni? Per due motivi. Prima di tutto per la trasparenza, perché mi sembrava molto importante che tutti i credenti potessero, che lo volevano, potessero accedere ai contenuti che noi abbiamo condiviso col Papa e con i Cardinali, sia per limitare la fantasia, soprattutto dei giornalisti, che in questi casi è veramente rigogliosa, ma anche perché è giusto che si sappia di che cosa si parla, che tutti possano sapere di che cosa si parla e che cosa si dice e in che modo si dice. E poi il secondo motivo, e sono contenta perché ho trovato conferma di questa mia idea nel documento post-sinodale numero 85, perché possa esserci discernimento comune sui temi di attualità della Chiesa, deve esserci formazione e informazione. Cioè le persone devono sapere di che cosa si sta parlando, quali sono i termini, quali sono le posizioni diverse che ci sono e il documento del sinodano dice che bisogna conoscere non solo la tradizione della Chiesa, bisogna conoscerla, ma anche per esempio cosa dicono le scienze umane su un determinato tema. E l'idea di questi volumi era un po' questa, dare degli strumenti comunque agili, perché vedete che non è tanto, per i credenti e per le comunità cristiane, per continuare un dibattito. Ha parlato Sor Linda del sinodo e di tutto questo cammino di sinodalità, sono di tutte queste tappe anche della Chiesa universale, della Chiesa italiana anche nel sinodo. Allora chiedendo al Vescovo Domenico, dentro questa prospettiva del sinodo, anche nella questa assemblea della Chiesa in Italia, emergeva appunto che una delle questioni, anche per superare una crisi che viviamo oggi, è quella di una partecipazione reale anche appunto delle donne che, cito i lineamenti a memoria più o meno, spesso non sono ascoltate o valorizzate, o lo sono poche anche negli organismi diocesani. Qual è il suo pensiero rispetto appunto alla partecipazione delle donne nella Chiesa, anche possiamo dire nel governo della Chiesa, e dei ministeri e della ministerialità maschile-femminile in rapporto, in collaborazione, in confronto tra loro. Dunque partirò da un aneddoto che forse potrebbe apparire perfino sconveniente, ma siccome sono reduce dall'assemblea sinodale numero uno della Chiesa italiana, dirò che lì dentro la Basilica di San Paolo, fuori le mura, si è svolto questo momento di confronto molto interessante e stimolante, circa un migliaio di persone presenti, e all'esterno della Basilica c'erano i bagni. E accadeva che quando si andava al bagno, da un lato parte uomini si facesse una lunga coda, mentre lato donne la coda era assolutamente inesistente. E lì per lì, insomma, sono rimasto un pochino perplesso. Dico, ma come mai così lunga? Tra l'altro, notoriamente, le donne sono anche un pochino più lente, diciamo così. E invece la ragione era presto detta, e cioè che le donne, in quel circa mille presenze, erano probabilmente un quarto, perché tra vescovi, preti e rappresentanti, le donne erano un quarto, perciò facevano molto prima la fila. Quindi c'erano tutti i vescovi e i cardinali in fila, da una parte, invece le donne passeggiavano. E questa immagine per me è un po' la cifra, diciamo, esperienziale di quanto nella Chiesa accade, laddove si è, per così dire, invitati a momenti di ascolto, anche di confronto. Tutto questo, peraltro, in totale controtendenza con quella che è poi invece la presenza e la pratica dove le donne, sia nei servizi quanto nella, diciamo, partecipazione ecclesiale, sono di gran lunga superiori rispetto ai maschi, nonostante anche le donne registrino in questo periodo storico, da almeno un ventennio, una emorragia molto significativa, soprattutto tra le note quarantenniche che avrebbero, appunto, abbandonato in massa la Chiesa. E perciò credo che questa disparità di genere si colga in maniera palese e dice di una emergenza che va affrontata. E non è un caso che, nel sinodo universale dei due anni, dentro il quale BN è stato collocato la serie degli appuntamenti di cui questo libro fa testimonianza, e nell'assemblea sinodale della Chiesa italiana la questione della donna sia stata posta con particolare evidenza, perché c'è effettivamente un problema che il Papa con il suo linguaggio così immediato ha definito la smaschilizzazione della Chiesa, che non significa, penso, nella sua mente che allora bisogna andare decisamente nella direzione della femminilizzazione della Chiesa, ma che pone, però, una questione da cui non possiamo allontanarci. Perché? Perché la Chiesa che non vive in una bolla sospesa tra il cielo e la terra, ma vive dentro la storia, subisce potentemente i condizionamenti storici e culturali del tempo. E non vi è dubbio che la Chiesa medesima abbia avuto nel corso della storia una virata in tendenza esattamente contraria a quanto nella scrittura, per esempio, si può cogliere rispetto a questa straordinaria novità che è la biodiversità umana che fa maschio e femmina solo insieme quale è immagine e somiglianza di Dio. Siamo arrivati in realtà a concepire questi due diversi modi dell'umano come distinti e perfino distanti e abbiamo perso quella sorta di imprinting originario della creazione che faceva invece di questo incontro la cifra stessa addirittura del divino e invece abbiamo riprodotto senza accorgercene quelle che sono state le forme pregiudiziali della società e della cultura che da un certo periodo storico in poi ha enfatizzato il patriarcato mettendo di lato tutta la dimensione femminile in origine dicono gli etnologi e gli antropologi pare che fosse il matriarcato poi è subentrato il patriarcato e sta di fatto che siamo ancora fermi per molti aspetti a questa dimensione ecco io penso che sia importante interrogarsi su questa disparità di genere che a mio parere è una grande povertà perché l'essere maschio e l'essere femmina è qualcosa di estremamente ricco e interessante privarsi di uno dei due sguardi è una povertà direi all'ennesima potenza la chiesa grazie anche a questi momenti come quelli che il papa francesco ha immaginato sta cercando di andare oltre a quella che era un po' l'eredità culturale e come dice il papa nella prefazione di questo libro il pregio delle riflessioni della giuliva della giuliva perché ti chiamo proprio il giulio e anche di altre donne è proprio il fatto dice il papa di non partire dalla idea ma dall'ascolto della realtà e perciò penso che noi dobbiamo ripartire da qui superando oggi una tentazione che è quella a parti invertite di riprodurre la medesima distinzione e distanziamento perché questo sarebbe veramente dopo il danno anche la beffa perché se continuiamo a permettere non solo la distinzione ma anche il distanziamento sia pure a parti invertite non andiamo appunto da nessuna parte quindi io mi auguro che questo momento di riflessione sia un tempo di confronto reale tra fratelli e sorelle di questa chiesa o per meglio dire tra donne e uomini di questo mondo perché la maniera che è stata posta in essere attraverso questo confronto franco a mio parere avvia un processo i cui esiti non è dato prevedere e penso che sia una buona notizia che nella chiesa come nella nostra società si possa parlare di queste cose senza dover chiedere permesso sicuramente siamo ancora in una fase molto iniziale però la questione lascia ben sperare per il futuro dicevo prima che il titolo dice molto e è tutto al plurale non solo donne anche con pensieri punti di vista diversi ma anche ministeri al plurale allora Giuliva ti chiederei se puoi inizialmente spiegare intanto la parola ministero perché anche da sua origine che cosa intendiamo per ministero e cos'è il ministero e poi se puoi spiegare ancora di più la tua proposta cioè che cosa hai detto poi riguardo ai ministeri e a un ministero specifico per le donne appunto al Papa e al Consiglio dei Cardinali ministero è un servizio letteralmente è proprio il servizio che si svolge nella chiesa nasce però da un riconoscimento riconoscimento di un carisma cioè del dono dello Spirito Santo lo Spirito Santo distribuisce i suoi doni ai battezzati e i battezzati esercitano un servizio perché riconsegnano restituiscono il dono dello Spirito al modo proprio quindi ognuno dei battezzati ricevendo lo Spirito restituisce lo Spirito a modo proprio in tutto questo c'è un riconoscimento ufficiale della chiesa sulla modalità specifica di ciascuno che si qualifica in ministero allora proprio per questo la realtà ministeriale è molto varia già dalle origini della chiesa i ministeri sono stati vari distribuiti da uomini e donne siccome ministero significa servizio in realtà è l'attitudine che ci rende più simili a Cristo Cristo Gesù ha detto io sono in mezzo a voi come colui che serve quindi egli stesso dice io sono venuto per servire non per essere servito ma per servire oltretutto colui che serve è un participio ed è un participio non al maschile non dice o diaconosso o diaconon cioè è un participio continuativo è per sempre colui che serve quindi così si qualifica Gesù non come colui che governa ma come colui che serve oltretutto ai suoi apostoli dice i capi delle nazioni governano tra voi non è così quindi lo stile della Chiesa che introduce Cristo Gesù è uno stile veramente di credenti che si mettono a servizio l'uno degli altri è questa la visione che io ho un po' offerto ai cardinali al Papa ricordando che la Chiesa è il corpo di Cristo e noi tutti i battezzati formiamo il corpo di Cristo e se siamo corpo quando un membro sta male tutto il corpo sta male se c'è una situazione che le donne soffrono in questo tempo o comunque che hanno sofferto anche in passato perché ci sono dei carismi dei doni di donne che non vengono riconosciuti ufficialmente anche oggi ma anche in passato è stato così in ogni caso se ci sono delle donne che si mettono a servizio del popolo di Dio ma avvertono che questo riconoscimento non è dato nonostante il servizio offerto è una sofferenza che non riguarda solo le donne ma tutto il corpo tutto il corpo è tutta la Chiesa che soffre ecco perché qualcuno mi diceva la Chiesa è in crisi certo che è in crisi perché non siamo ancora arrivati al punto di riconoscere i doni gli uni degli altri perché quello che è l'altro è me stesso noi formiamo un corpo siamo un corpo formiamo il corpo di Cristo se un membro non è riconosciuto bene o male ne soffrirò anch'io quindi la crisi della Chiesa è anche questo è un mancato riconoscimento gli uni degli altri finché c'è una polarità che noi ragioniamo uomini e donne secondo me è questo che ho detto anche al Papa Cardinali è una visione ancora limitata perché ancora non ci sentiamo tutto un corpo che è chiamato a una dinamicità del servizio servizio gli uni degli altri servizio al mondo servizio all'attualità servizio alla società al mondo civile noi siamo come dei mondi un po' ognuno staccato dall'altro ci manca questa questa coscienza di essere corpo e la donna se la sofferenza della donna viene proprio da questo che siamo veramente come smembrati ma Cristo non ci vuole così ci vuole veramente un corpo insieme e questa visione è piaciuta molto ai cardinali perché alla fine io ho fatto una proposta concreta mi era stato chiesto di farla e quindi l'ho dovuta offrire e la mia proposta è stata per il diaconato permanente alle donne inizialmente prima di prepararmi per questa conferenza perché ovviamente ho studiato tutte le fonti antiche c'era in antichità un diaconato femminile c'è una ritualità conservata che appunto si può studiare si può consultare di ordinazione parliamo di ordinazione non lo so se ordinazione sì o no perché siamo ancora nell'antichità quando ancora non c'era nemmeno l'ordinazione così come la troviamo oggi però c'era un rito che istituiva delle donne a servizio del popolo di Dio pari agli uomini e le riconosceva diacone nel popolo di Dio ovviamente erano donne diverse con carismi diversi con servizi diversi quindi erano molto variabili anche questa variabilità dà un po' di perplessità perché dice sì facciamo le donne diacono però che cosa fanno? è molto vario sono segno di Cristo servo tra il popolo di Dio e per esempio nella Chiesa Occidentale c'era la questione del battesimo delle donne battezzate adulte nell'antichità la ritualità del battesimo prevedeva il fatto che le persone si spogliassero completamente e si immergessero dentro l'acqua battesimale dentro il fronte battesimale riemergeva la donna sia per spogliarsi sia per rivestirsi forse era meglio che non era un uomo quindi ci voleva una donna che svolgesse questo ruolo liturgico però c'erano tanti altri servizi anche nella carità il diaconato quindi il segno del Cristo servo nella Chiesa c'erano sia donne che uomini a un certo punto il diaconato femminile si estingue perché? perché il diaconato entra dentro la carriera ecclesiastica che poi è stata riservata solo agli uomini e a questo punto il diaconato femminile non aveva cioè le donne diacono non avevano più modo di essere riconosciute all'interno della carriera del cursus honorum del maschile allora lì la questione si complica ancora di più se si dovesse ripristinare un diaconato è le donne è un diaconato femminile riservato solo alle donne è un diaconato che può essere inserito dentro attualmente ci ritroviamo un diaconato che è dentro il sacramento dell'ordine allora le donne potrebbero anche dispensare dei sacramenti e quindi c'è tutta una questione allora è tutto un percorso è tutto un dialogo è come diceva il nostro vescovo qualcosa che ancora è un itinerario da svolgere da fare e grazie a Dio ecco il sinodo il papa non hanno non hanno dato un no definitivo alla questione anzi ha aperto ancora la possibilità di poter dialogare su questo per poter trovare la formula migliore per riconoscere il servizio delle donne che c'è e in alcune parti del mondo è anche considerevole allora vi dicevo io inizialmente non avevo tanto questa visione del diagonato femminile però studiando questa situazione della chiesa antica mi sono resa conto che ci sono tante cose che dell'antichità riemergono nel mondo attuale in una forma diversa e attualizzata per esempio io sono una consacrata nell'ordo virginum il rito di consacrazione nell'ordo virginum era valido fino al quarto secolo poi non più utilizzato e poi riemerso nel 1970 con un'altra modalità in un altro modo ma è riemerso e allora mi sono chiesta ma perché non potrebbe riemergere anche una forma di riconoscimento di un diagonato per le donne dall'antichità dalla storia c'è una tradizione quindi riattualizzando questa tradizione si potrebbe in qualche modo quello però che mi ha convinto maggiormente è la situazione di alcune donne perché qui bisogna allargare la visuale quindi io facevo una conferenza al Papa è cardinale di tutto il mondo non è che facevo i vescovi italiani o la curia romana era una roba di tutto il mondo allargando la visione del mondo mi sono andata a studiare gli atti del Sinodo dell'Amazzonia e studiando il Sinodo dell'Amazzonia ho notato che è emersa la questione di donne che esercitavano dei ministeri importanti rilevanti per certe comunità e non una sola ma zone intere zone che donne reggono governano e amministrano anche sacramenti perché poi alla fine che aspetti sei mesi che arriva il prete per celebrare un battesimo o per fare un funerale quindi c'è una situazione che oggi già c'è allora io mi sono chiesta ma scusate noi stiamo qui a parlarne e c'è una situazione che anche già c'è quindi non si tratta nient'altro che riconoscere quello che c'è il servizio che le donne svolgono già adesso cioè di che cosa stiamo parlando allora questa cosa qui ho detto va regolarizzata ma non partendo dalla donna che deve essere valorizzata dalle comunità queste comunità che ricevono un battesimo da una donna e questa donna è in supplenza di qualcuno queste comunità si devono sentire in qualche modo dentro il corpo ecclesiale e la donna che amministra un battesimo che fa un funerale si deve sentire riconosciuta autorizzata dall'autorità ecclesiale a poter amministrare noi in supplenza di e a questo punto dico c'è un'emergenza noi in Italia ma in alcune parti del mondo c'è alcune donne vivono questa situazione non bella perché io mi sono messa nei panni di quella suora in Brasile che fa i battesimi cioè a nome di che cosa io perché sono supplente di qualcuno che non c'è ma se non c'è allora quando non ho parlato così cardinale ho fatto un discorso un po' più però comunque la cosa che mi è piaciuta è che quando ho finito la mia Sor Linda lo può testimoniare la mia conferenza beh i cardinali stavano attenti cosa che mi hanno detto ma i cardinali delle volte prendevano un po' sonno ogni tanto perché sono anziani sono poi insomma questi discorsi pesanti ma non è che gli altri abbiamo fatto i discorsi pesanti vabbè insomma teologi invece invece erano erano svegli erano belli svegli cioè avevano capito la situazione e hanno risposto anche subito e gli è piaciuto un sacco questo discorso che ho fatto cioè hanno capito hanno colto l'emergenza di queste donne che servono il corpo ecclesiale e che forse magari c'è bisogno di di fare qualcosa di attivarsi in questo senso e il fatto che erano svegli non mi stupisce perché insomma sono un insegnante di ragazzi delle medie delle superiori bisogna attivarli quindi in qualche modo e però ecco la cosa che mi ha stupito di più è stato che tutti tutti hanno iniziato a dire però però in effetti a pensarci e questa cosa mi ha stupito oltretutto alcuni cardinali hanno detto che essendo io dell'Ordo Virgine anche loro nelle loro diocesi hanno delle consacrate Ordo Virgine loro diocesi e qualcuno ha detto su alcune insomma dell'Ordo Virgine hanno anche degli incarichi importanti nella diocesi perché hanno il tempo per dedicarsi al servizio per questo però sono stata contenta del fatto che c'è stato un riscontro importante ecco quindi per me è stata un'esperienza molto forte però mi sono resa conto che la realtà ministeriale per le donne è quasi cioè emerge non è una questione che noi dobbiamo creare inventare chissà che cosa emerge proprio dal basso perché c'è già quindi basta solo riconoscere nel 1994 30 anni fa esatti la chiesa anglicana ordina le prime donne prete si dice sì ecco che nel giro i dieci anni diventano subito un quinto dei preti della chiesa anglicana all'inizio con un po' di perplessità e di fatica nel breve nel lungo insomma diventa quasi normale poi nel 2014 la scelta che diventerà poi ordinazione vera e propria l'anno dopo delle prime vescove della chiesa anglicana la scelta anche lì nata in contesto di sinodi e di sinodalità la risposta trovata da una confessione cristiana come quella anglicana rispetto appunto alle domande che anche noi insomma ci poniamo come si diceva prima non è detto che dobbiamo prendere per buone tutte le risposte o essere d'accordo sempre su le risposte che possono essere varie e diverse però appunto dentro questo dialogo aperto che vuole accompagnare il processo appunto è accompagnato il processo di questo dialogo del Papa e dei cardinali su questo tema e dentro questo dialogo appunto che continua si inserisce la scelta di Sor Linda di invitare a questo dialogo questo incontro con il collegio dei cardinali della chiesa cattolica anche una vescova anglicana un bel azzardo però da quello che ho capito anche dialogando con Giulia in questi mesi anche comunque qualcosa magari non facile da accogliere da capire ma che poi alla fine è stato anche molto apprezzato la vescova in questione non è qui presente anche perché è una che insomma spesso in giro per il mondo ma ha già fatto il dono la vescova Joe Wells di farci un video per noi che ci ha inviato allora lo ascoltiamo ciao e saluti a Verona da Londra vi parlo dall'ufficio della comunione anglicana mi chiamo Joe Bailey Wells sono un vescovo della chiesa anglicana originariamente nella chiesa d'Inghilterra ma ora servo circa mille vescovi di tutto il mondo la comunione anglicana è presente in circa 170 paesi è stata una vera gioia lavorare con Giuliva e Sor Linda Poker lo scorso febbraio quando abbiamo avuto l'onore di venire a Roma e su invito di Papa Francesco di parlare a lui e al suo consiglio di nove cardinali per una mattinata il nostro è stato uno dei quattro seminari svolti mensilmente dopo il sinodo dell'anno scorso sulla sinodalità perché la questione del ruolo della donna era diventata centrale ed era molto rilevante la mattina in cui abbiamo parlato mi è stato chiesto di raccontare la storia dell'ordinazione delle donne nella chiesa anglicana e Giuliva ha parlato del diaconato femminile che ha fatto parte anche della nostra storia e come forse saprete quello che è uscito quella mattina è stato questo libro con le nostre presentazioni e poi la risposta di due vescovi anche se penso sia onesto dire che la risposta pubblicata qui non corrisponde del tutto alla risposta offerta in modo più informale durante l'incontro comunque solo per dipingervi il quadro della nostra comunione sono stata ordinata sacerdote esattamente 30 anni fa subito dopo che la chiesa d'Inghilterra si impegnò a ordinare le donne al sacerdozio circa otto anni prima la chiesa aveva accettato di ordinare le donne al diaconato ma questo riguarda solo la chiesa d'Inghilterra e altre parti della comunione anglicana perché ciascuna delle 42 province ha autonomia nel processo decisionale diverse province avevano già ordinato donne e proprio così sapete ora abbiamo 42 province in tutto il mondo e 38 di quelle 42 province si sono ora impegnate all'ordinazione delle donne almeno in un ordine e molto spesso in tutti e tre quindi potendo ordinare diaconi sacerdoti e vescovi quindi la storia non è nuova per noi si è affermata abbastanza bene e per la maggior parte è un dato di fatto che la nostra chiesa ordina anche le donne non siamo stati affatto i primi ma alcune delle denominazioni più marcatamente protestanti sono nate prima di noi in termini di rapporti con Roma il cammino ecumenico con i nostri per così dire parenti più stretti non è sempre stato semplice e spedito ugualmente con gli ortodossi ovviamente una delle caratteristiche dell'anglicanesimo direi è il modo in cui tiene insieme il paradosso essendo nati nella riforma della chiesa cattolica romana affermiamo di essere cattolici e protestanti quindi manteniamo insieme due approcci teologici molto diversi uno si potrebbe dire dall'alto e l'altro proveniente dal basso e anche se alcune persone sono più cattoliche e altre più protestanti c'è un legame che è profondamente emozionante e funziona davvero quindi il nostro viaggio verso l'ordinazione delle donne includeva dal punto di vista cattolico un riesame del sacerdozio un'indagine per stabilire se la tradizione della chiesa potesse cambiare la sua dottrina per accogliere questo aggiustamento con validità o meno naturalmente ricorderete che nella chiesa primitiva c'erano i diaconi basta leggere le lettere di Paolo e vedere i suoi saluti per rendersi conto che in qualche modo più vicini al tempo di Gesù c'erano più rischi e forse più eccezioni e poi la chiesa si è mossa in una direzione più conservatrice e sembra che ci stiamo risvegliando di nuovo a diverse possibilità e poi dalla prospettiva protestante più evangelica le questioni riguardano tutte cosa dice la scrittura e cosa permette la scrittura e ancora c'erano delle tensioni intorno a quei dibattiti perché ci sono alcuni testi di cui Paolo parla non permetto a una donna di insegnare ma allo stesso modo nella Genesi leggi di Dio che crea maschio e femmina insieme dando loro maggiore autorità sulla creazione chiedendo loro di esercitare la leadership non chiedendo agli uomini di esercitare la leadership sulle donne ma chiedendo loro di farlo insieme quindi è stato un viaggio emozionante non è stato privo di sfide ora abbiamo una chiesa direi che accoglie le diversità e direi che questo è un altro tratto distintivo anglicano voglio dire le differenze sono dolorose e se sai qualcosa della chiesa anglicana saprai che continuiamo ad avere dibattiti molto pubblici sulle questioni attuali dei nostri giorni ma nel complesso la questione sull'ordinazione delle donne è andata avanti e non ne discutiamo più ma accogliamo coloro che per convinzione non sono aperti all'ordinazione delle donne che ora hanno una percentuale molto piccola della chiesa forse il 5% e poi ovviamente accogliamo chi è aperto all'ordinazione delle donne e quindi abbiamo dovuto risolvere questa differente visione ci sono alcuni vescovi particolari preposti a supervisionare coloro che non sono aperti all'ordinazione delle donne e sono lì per la loro protezione e si impegnano per la loro prosperità perché sono anglicani validi e allo stesso modo c'è impegno per il resto della chiesa per coloro che sono favorevoli all'ordinazione femminile e secondo i quali uomini e donne sono trattate allo stesso modo sono trascorsi solo dieci anni da quando nella chiesa di Inghilterra abbiamo aperto l'episcopato alle donne ma ora abbiamo circa un terzo dei vescovi che sono donne e così molto rapidamente è diventato molto normale io non sono affatto un caso isolato potresti chiederti come è cambiata la chiesa a seguito dell'ordinazione delle donne c'erano diverse aspettative che il club maschile del clero se vogliamo chiamarlo in questi termini sarebbe stato infranto e certamente penso che la cultura del clero della leadership sia cambiata è più aperto è meno gerarchico credo ma non facciamo finta che le questioni di potere non esistano ancora in quale altro modo è cambiato voglio dire da un lato direi che la chiesa non è cambiata neanche un po' sapete la liturgia è la stessa i sacramenti sono gli stessi non ci sono stati per così dire fulmini o segni divini quando le donne sono state ordinate anche se alcune lo temevano o addirittura lo prevedevano e naturalmente abbiamo più clero di quanto ne avessimo prima nella chiesa d'Inghilterra ormai si tratta quasi della metà di uomini e donne tra preti e diaconi direi che la cultura è più sana perché ci sono voci più diverse nel gruppo sapete quando anche si invita un giovane a far parte di un comitato o di un consiglio la gente parla diversamente perché quel giovane è lì e direi lo stesso quando sono presenti le donne in un comitato o in un consiglio di uomini e quindi mi sembra incredibilmente salutare che Papa Francesco abbia aperto il vostro sinodo alle donne ai laici e ai giovani sono consapevole che c'erano anche alcuni visitatori ecumenici e capisco che ognuno di loro ha avuto la stessa opportunità e lo stesso spazio per parlare e ascoltarsi a vicenda e sembra che sia esattamente quello che è successo allo scorso consiglio dei cardinali a febbraio per me e Giulia anche se non tutti sono d'accordo mi sembra davvero salutare lottare insieme essere costruire quel tipo di relazioni in cui è possibile agire con fiducia trasparenza e il rischio e anche se mi rendo conto che questa volta il sinodo sulla sinodalità non è scelto di portare avanti quelle questioni particolari mi sembra che avendo aperto la conversazione poterci incontrare come abbiamo fatto noi e come spero che siate aperti verso le nostre differenze per esplorare i nostri punti di vista sia importante ecco perché sono stata invitata semplicemente a condividere la storia in modo che le persone potessero porre domande e mi hanno interrogato e hanno imparato gli uni dagli altri quindi io vi auguro ogni bene ho il privilegio di partecipare al vostro incontro anche online in questo modo e spero che qualunque sia la nostra provenienza su questioni che hanno a che fare con il ruolo delle donne nella Chiesa voi onorerete la dignità delle donne e si possa dare loro il potere con i loro doni di servire con tutto il cuore l'anima e la forza la gloria di Dio Amen grazie 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 a Sor Linda di averla invitata grazie a Giuliva che si è prodigata e ha insistito e ha fatto bene a volere questo contributo anche questa sera per noi riprendendo un po' il giro chiedo Sor Linda ma alla Chiesa e ancora di più a te che cosa ha lasciato tutto questo processo di dialogo con il Papa e i Cardinali posso rispondere a un'altra domanda che non mi è stata fatta vorrei dire qualcosa ancora su questo incontro perché prima delle due relazioni di Giuliva e di Gio una come abbiamo sentito sulla storia dell'ordinazione delle donne nella Chiesa Anglicana e poi la proposta di Giuliva che Giuliva ci ha presentato molto bene e l'introduzione che io ho fatto voleva un po' mettere il dito proprio nella piaga e parlare dell'ordinazione delle donne quindi dell'accesso delle donne al ministero ordinato non solamente il diaconato e insomma abbiamo preso la cosa abbastanza di di petto senza giri di parole perché credo che uno dei grandi ostacoli all'ordinazione diaconale delle donne che ha detta di moltissime persone teologi ma anche molti vescovi pastori e molti laici dovrebbe essere possibile perché abbiamo i diaconi permanenti sposati e non si capisce perché non possiamo avere le donne anche diaconi permanenti credo che il più grande ostacolo sia la paura la grande paura che questo comunque sia il primo passo per l'ordinazione poi anche presbiterale delle donne e io siccome ho imparato dai gesuiti che la paura non viene mai da Dio cioè le scelte fatte sulla base della paura non sono scelte frutto di discernimento spirituale mi sembra che sia importante guardare in faccia questa paura e quindi anche parlare del perché è possibile o impossibile in generale l'ordinazione delle donne e non soltanto il diaconato anche se adesso sappiamo che quello che ha lo studio è semplicemente il diaconato permanente e in ogni caso credo che sia bene che questa scelta sia buona perché la gradualità la progressività e anche il tempo perché anche chi non è d'accordo possa esprimersi tutto questo credo che sia importante è anche una delle cose che io ho imparato in quest'anno cioè che è meglio anche se abbiamo fretta tante volte e ci può essere tanta frustrazione e comunque è meglio andare un po' più piano e cercare di andare insieme che avere tanta fretta e lasciare tanta gente per strada perché se è vero che siamo un corpo cioè quello che vale della mia sofferenza vale anche della sofferenza degli altri è importante rispettare quello che anche gli altri credono nella incoscienza davanti a Dio ma volevo dire che il primo testo che trovate nel libro affronta proprio il tema dell'ordinazione delle donne in generale e io credo una cosa che tra l'altro il Cardinale Fernandez ha detto in quella conferenza che è stata poi registrata e pubblicata durante il sinodo lui lo diceva a proposito del diaconato io credo che si possa dire anche a proposito in generale della partecipazione delle donne della possibilità dell'ordinazione per le donne che i motivi tradizionali che escludono le donne non sono più validi se fossero ancora validi non saremmo qui a discuterne perché sarebbero comunque condivisi dalla comunità ecclesiale ma non lo sono più Giovanni Paolo II avrebbe voluto che si dimostrasse che la riserva maschile apparteneva alla deposito della fede quindi alla rivelazione ma finora questa dimostrazione non è stata possibile anzi la pontificia commissione biblica ha dichiarato che non si può fondare biblicamente la riserva maschile dell'ordinazione allo stesso tempo però i motivi a favore dell'ordinazione perché non basta che non ci siano motivi contro ci vogliono anche dei motivi a favore sembra che non siano abbastanza maturi probabilmente se fossero più maturi ci sarebbe più consenso credo che una cosa che manca al consenso è appunto che la comunità ecclesiale in tutte le sue componenti sia a conoscenza dei termini del dibattito teologico e che abbia modo di riflettere anche sulle conseguenze o sulle premesse pastorali nella Chiesa Cattolica c'è un caso di ordinazione di una donna in Slovacchia in una situazione difficile durante la seconda guerra mondiale e un vescovo per raggiungere alcune persone che non potevano essere raggiunte in nessun altro modo ha deciso di ordinare una donna presbitera sacerdote non so come vogliamo chiamarla e questa donna ha amministrato i sacramenti per tutto il tempo in cui è durata questa emergenza quando l'emergenza è finita però la Chiesa di Roma ha detto che questa ordinazione non è valida questa signora vive ancora e mi è stato raccontato che quello che lei dice è qualcosa di simile è importante che nessuno dica che quello che io ho fatto non è stato fatto perché è stato fatto allora alcune volte io mi chiedo e vengo da una zona per esempio da una diocesi la diocesi di Udine dove il numero dei sacerdoti comunque in caduta libera ma ce ne sono tante in Europa mi chiedo che cosa è più importante che le comunità abbiano i sacramenti o che sia conservata che sia conservato uno status quo non ho la risposta sicura perché magari è più importante cioè magari ci sono dei motivi simbolici che potrebbero farci decidere che è più importante continuare così questo però avrà delle conseguenze perché se iniziamo a celebrare per esempio più la liturgia della parola che l'eucarestia cambia qualcosa no la nostra vita di preghiera è in questo momento è centrata sulla celebrazione eucaristica non sulla liturgia della parola viceversa potremmo vedere che forse è più importante che possiamo tutti accedere ai sacramenti penso anche a tante comunità religiose e femminili che non hanno più possibilità dell'eucarestia neanche la domenica per tanti motivi e quelle sono delle comunità che hanno una vita comune cioè che vivono insieme e pregano insieme e gli manca solo la possibilità dell'eucarestia allora ovviamente non c'è una soluzione a tutto questo però penso che sia importante anche magari stasera tornando a casa chiedersi ma io cosa ne penso che cosa farei parlarne tra di noi scambiarsi le impressioni le idee pregarci su perché sono cose che maturano appunto nel corpo ecclesiale e non soltanto nelle teste di quelli che scrivono i documenti ma il sinodo anche questo ci ha fatto vedere chi ha letto il documento post-sinodale ha visto che non è un documento che esce dalla testa di una persona e il Papa lo ha riconosciuto come documento della Chiesa è un documento che fa una fotografia di che cosa è la Chiesa con tutte le sue tensioni anche alcune contraddizioni dei momenti dove si accelera dei momenti dove si frena e questa è la Chiesa e anche su questo tema è importante che tutti noi ci facciamo grembo di questo problema perché possa maturare la soluzione che ancora non vediamo non ho risposto no no grazie che invece hai riaperto e così faccio rispondere la parte difficile al Vescovo perché una delle cose che mi piaceva mi è piaciuta mi ha colpito maggiormente nel video della Vescova Wells è quando dice il fatto di avere delle donne ordinate ha costretto il clero a cambiare cioè ha portato un cambiamento del clero che non so se sia la paura che abbiamo ecco però insomma un po' anche a conclusione di questa serata insomma è vero che non siamo qui per trovare una risposta definitiva o a trovare soluzioni ma un po' un pensiero ecco conclusivo del Vescovo su questo sui ministeri sui ministeri al femminile ma anche sul ministero maschile come cambia o potrebbe cambiare ecco in generale insomma la ministerialità nella Chiesa e la ministerialità femminile nella Chiesa ma credo che il pregio di questa serie di audizioni che abbiamo sentito raccontare sia stato quello di aver introdotto un pizzico di serenità in più quando si parla di questo argomento della donna nella Chiesa e nella società perché come diceva anche Sor Linda e anche nel suo testo questo tema della donna è un po' il classico elefante dentro la stanza di cui tutti sono a conoscenza ma di cui nessuno vorrebbe parlare invece il fatto che se ne sia parlato al massimo livello in qualche modo aiuta a guardare a questa prospettiva ad occhi aperti e anche con quella sufficiente serenità che consente di indagare i pro e i contra senza posizioni pregiudiziali nell'una e nell'altra direzione io credo che questo sia un modo per rispondere ad una domanda che spesso negli anni serpeggia nel cuore di tanti perché se i sacramenti sono sette sei spetterebbero alle donne e sette ai maschi qual è il motivo di questa differenziazione e a quanto pare questa serie di motivi che hanno avuto certamente nel corso dei secoli basi diciamo così bibliche anche patristiche importanti sono state poi nel tempo anche soggette ad una revisione perché obiettivamente i testi biblici non presentano una interpretazione univoca per dire l'apostolo Paolo citato dalla vescova dice effettivamente che le donne tacciano in un posto però com'è? dice anche che non solo ma dice anche che non c'è più uomo né donna schiavo o libero giudeo o greco per cui diciamo che andrebbe indagata la scrittura in una forma appunto molto più ampia e io credo che effettivamente quello che ha detto la vescova è davvero il punto e cioè il fatto che noi si cambia solo nella misura in cui ci si incontra con chi è differente da noi e così come nell'esperienza tutta umana dell'innamoramento uno scopre il proprio io non quando si guarda allo specchio ma quando incontra il tu dell'altro che in qualche modo mi aiuta finalmente a conoscermi ed è interessante questo fenomeno per cui non è da ciò che è omogeneo ma da ciò che è eterogeneo perché obiettivamente noi siamo diversi ma anche nel senso che siamo davvero reciproci cioè non abbiamo lo stesso punto di vista questo spiega anche perché nel testo biblico della Genesi la parola originale non è voglio farti un aiuto che sia simile ma voglio farti un aiuto che ti sia contro perché è da questa differenza che nasce qualcosa di originale ecco io credo che effettivamente laddove entrano le donne magari senza che ce ne accorgiamo le cose cambiano perché è l'approccio che cambia alla realtà e io trovo che anche nella vita quotidiana della Chiesa laddove c'è questa possibilità di far come dire confrontare i due punti di vista ne esce fuori qualcosa di assolutamente nuovo ed originale insomma credo che la ragione per cui dobbiamo continuare ad interrogarci su una sempre più profonda valorizzazione dell'uno e dell'altro che è stato ben messo in evidenza da Giuriva è proprio il fatto che soltanto da questo incontro viene fuori l'umano nella sua pienezza e dunque se viene fuori l'umano nella pienezza questo accade anche in quella singolare dimensione che è la dimensione ministeriale penso perciò di essere veramente molto contento anche di questo momento stasera perché ha dato la possibilità di offrire a tante persone la possibilità di ragionare su questa vicenda che secondo me non è solo ecclesiale ma anche sociale vedete e concludo veramente il tema dei femminicidi in realtà non è distante da quello che abbiamo detto questa sera perché non abbiamo ancora raggiunto una sufficiente maturità culturale e spirituale che valorizza le differenze e la cosa è molto strana perché noi postmoderni ci sentiamo così estremamente aperti e invece si riproducono nelle nuove generazioni forme direi molto ormai superate in cui questo riconoscimento della differenza viene in qualche modo messo da parte perciò ecco io mi auguro che il mondo ma anche la Chiesa perché le due realtà si contagiano reciprocamente possano sviluppare una più avvertita consapevolezza che dalla differenza dei generi che viene fuori qualcosa di nuovo e anche di vitale e che invece indietreggi questo spirito un po' omologante che tende a cancellare le differenze anzi addirittura ad evitarle perché se ci fate caso anche nella dinamica della relazione tra uomo e donna oggi si preferisce stare ognuno dentro la propria comfort zone perché il confronto con l'altro differente da sé è sempre a rischio ma come dice il proverbio è della saggezza popolare chi non risica non rosica e anche in questo penso che questa vicenda abbia la sua rilevanza grazie al vescovo domenico grazie giuliva grazie sor linda grazie per questo strumento che ci date in mano ma grazie anche per aver contribuito anche in questa occasione a tenere aperto e ad aprire sempre di più questo dialogo e la parola dialogo stesso come tante che abbiamo usate oggi dice il desiderio la necessità appunto di un confronto vi ringraziamo tutti e direi che possiamo fare un applauso grazie Grazie.